La piccolina qua c'è la donna. 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 Poi si allontana con il peso. Io la tengo lì, io posso cambiare l'asse, perché l'asse diventa un bifo. Quando faccio invece la volcada, io la lascio all'eliquipo con l'asse. Mi allontano. No, sai cos'è? Non c'è tempo di stancura, non mi assi, quindi tu non ti sei avvicinata a lei. Vado e fai un passo. 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 Vado e fai un passo.